Da, diciamo, una decina d'anni il gruppo Pittini ha iniziato ad implementare il project management all'interno dell'azienda per migliorare la gestione dei nostri progetti di investimento e applicare le tecniche di project management abbiamo visto che comunque ci consente di essere più efficaci, più reattivi e anche più proattivi nel proporre nuovi investimenti, perché durante lo sviluppo di un progetto ne nascono sicuramente sempre degli altri e riuscire a monitorarli, a tenerli tracciati durante l'esecuzione dei progetti consente anche di pianificare il futuro e la strategia dell'azienda.